Benvenuti nel mondo degli orologi Perigum. Perigum è un marchio di orologi di lusso svizzero fondato nel 1972 con l'obiettivo di produrre orologi di alta qualità con un design unico e innovativo. Il nome Perigum deriva dalla combinazione di due parole, Perigeo e Circaum, che rappresentano rispettivamente il punto più vicino della Luna alla Terra e il percorso orbitale della Luna intorno alla Terra. Il marchio Perigum si concentra sulla produzione di orologi di alta qualità e di design, utilizzando materiali di prima scelta come l'acciaio inossidabile, il titanio e il vetro zaffiro. Gli orologi Perigum sono caratterizzati da un'ampia gamma di funzionalità, tra cui cronografi, indicatore di data e indicatore di fasi lunari, che li rendono adatti sia all'uso quotidiano che a eventi speciali. La collezione di orologi Perigum comprende modelli da uomo e da donna, con una vasta gamma di stili e design, tra cui sportivi, cheggioali ed eleganti. Tutti gli orologi Perigum sono dotati di movimento al quarzo o automatico, garantendo una precisione e una affidabilità elevate. Perigum è un marchio relativamente nuovo, ma sta guadagnando rapidamente popolarità tra gli appassionati di orologi di lusso e gli acquirenti consapevoli. Inoltre, Perigum offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione per i propri orologi. I clienti possono scegliere tra diverse opzioni di cinturino, quadrante e finiture, creando un orologio personalizzato che riflette il loro stile e la loro personalità. La personalizzazione degli orologi Perigum è un'opzione ideale per coloro che cercano un orologio di lusso unico e distintivo. Perigum è anche attento alla precisione del movimento meccanico dei suoi orologi. I movimenti degli orologi Perigum sono prodotti da fornitori svizzeri di alta qualità e sottoposti a rigorosi controlli di qualità per garantire la massima precisione e affidabilità. La precisione del movimento meccanico è un fattore fondamentale per gli appassionati di orologi di lusso, e Perigum garantisce che i suoi orologi soddisfino i più elevati standard di qualità.